Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul nuovo video, sono Rena e continuiamo l'avventura di Minecraft e guardate che bella casetta che sono fatto, guardate guardate anche il mio personaggio che figlio, aspettate di tolgo un'armatura guardate che fighetto buongiorno, buongiorno, buongiorno ne rimettiamo tutto ok guardate che bella casetta che sono fatto ragazzi si, ci devo ancora lavorare sopra qua è un detto matrimoniale perché qua è venuto anche un mio amico guardate c'è una caverna immensa ho trovato di tutte e di più guardate di tutte e di più no però ho trovato i gotti di ferro ho trovato i gotti ho fatto i gotti ferro, oro carbone carbone l'ho trovata a volontà proprio e poi c'ho gli apiscazzoli però non li ho presi non li ho presi non li ho presi mi ha smettato a prendere un po' di carne è la tua cuocere ma guarda secondo adesso c'è uno c'è uno sacro c'è solo l'amicizia ad una dormia un po' di l'amicizia ragazzi allora allora è pronto qua tutto pronto no non ancora per me 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 allora c'è ancora 5 polle e c'è un po' di tutto pelle guardate quanto c'è no abbondante per me intanto me lo faccio e mi spianto un po' di alberi allora piantiamo ma una cosa non c'è cazzo non la futtana guardate che bella fichiamolo con le zucche mamma mia sembra un spettacolo di casa ok qua c'è una mappa un po' di tutto si 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 va bene tutto ordinato abbiamo funghetti poi ci facciamo una zucca di funghetti qua allucinante io sono un bravo qui c'è tutto dove andare su master chef io ragazzi guarda che parkurista prof si guarda qua ragazzi che mi faccia oh attenzione ragazzi ok basta giocare ah sono pronto a dire ah ca puttana sono spiccato sulle collo buon permesso ah no è casa mia ok dai 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 ok stiamo volendo ok si facciamo già un po' di cuore tanto buono lo stesso digerisce di tutto la 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 spada di legno l'amicizia non riesce ma guardate che figata usare anche come maschera però non ne ha lui quanto sarà lui mi farò parlando quattro guardate che smittà e farò una mega face al minecraft ok la 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 Ok da René è tutto e ci vediamo al prossimo video Vi volevo solo vedere cosa avevo fatto E ci vediamo al prossimo video Bella